Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Sammo Distino, patrono di Avellino, è ora rappresentato in una statua nuova di Zecca, opera degli eccellenti artigiani di Ortisei. Il simulacro è stato benedetto dal vescovo Arturo Aiello, il quale ha adottamente spiegato anche l'importanza di poter disporre finalmente di una riproduzione così ben fatta. La devozione per Sammo Distino è debole, ha detto Monsignor Aiello, perché è mancata fino ad oggi una immagine da patinare con la preghiera, da toccare, da incensare, da portare in processione. La nuova statua è una possibilità ulteriore offerta alla comunità per trovare un punto di comunione. Sante parole. E però, Monsignore, allora non è vero che l'abito non fa il monaco.